Ciao a tutti, allora, questo è il primo video della nuova serie che ho deciso di intraprendere e come vedete questa serie parla appunto di FIFA Allora, cosa farò in questo gioco? Sinceramente io avevo pensato a fare due cose, avevo pensato a fare due cose Allora, la prima era quella di fare la cosa classica che bene o male fanno anche gli altri però è una cosa che comunque voglio provare e mi ci diverto a farla ovvero è quello che riguarda questa notità con gli ultimi team e la seconda che forse riguarderà sempre, se la farò, quella diciamo della carriera allenatore Insomma, però, ora siamo qui e iniziamo un po' con gli ultimi team Niente, iniziamo, vediamo un po' com'è Io credo che non c'è ancora giocato, infatti è la prima volta, cioè, con voi inizio appunto proprio anche a gioare a FIFA, all'ultimi team, tra l'altro Insomma, vediamo un po' cosa viene fuori Una cosa, ah, una cosa che comunque stiamo a guardare è che ho preso il presto, diciamo sì, tramite il catalogo Bale perché io, come vedrete poi, ho già una rosa una rosa che uno che magari non lo sa dice come fa che ce ne sta sapendo come fa che ci ha determinato giusto giusto, 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 vedi, perché, a parte Bale perché, eh, per chi non lo sapesse, ho fatto qui Bale aspetta, aspettate, ve lo spiaggia Siamo avanti la resattiva diciamo, lo vè la mettiamola di basso a istituzione ci dava questo cagnaccio ohioi mettiamola qui vai insomma perché ci ho già guarda, ve la faccio vedere, eh sì, vai tutte le volte allora vedete che c'ho già una rosa diversa da quella lì no, che palle, io ne posso più vai basta c'ho già qualche giottere in più come Turbe Keita Buonaventura Marchetti Sorens perché c'ho questi giottere lì? perché qui, chi non lo sapesse 47 parte lo dio eh qualche giorno fa eh è diventata, diciamo, disponibile online la web app di FIFA di FUT il mio team del 2015 eh evidentemente sono web app appunto web perché si trova su basta detto, beh c'è internet, basta detto in computer e uno appunto può, diciamo, gestire cioè comprando, vendendo, compravente eh giocatori eh staff consumabili e cavolate varie può gestire la propria squadra e giusto appunto io grazie anche ai pacchetti che FIFA ha deciso di regalarci chiamavano i pacchetti perché ci sono anche i giornalieri che non so fino a quando verranno inoltre eh però dio il di in primis ci metto anziere in prevedere i pacchetti che cioè a meno che tu ci abbia un culo sfondato non trovi mai nessuno di fuori ci ne può trovare forse uno io massimo ho trovato il soldato che infatti te va a prenderlo e lo riprendo subito e faccio qualche quiz insomma e questa la mi rosa ora guardiamo un po' mettiamo Bale Garrett eh a questione destro a me ne fega nulla a me ne frega dell'osa di viti schiocca punta a me ne frega per noi della intiesa tanto zian faccio uguale vedi c'è quando aveva del guine show ma chi chissà che stile ma dove è giocata insomma fra l'altro ho nemmeno di scuola e ti vedi va incattrato di Nivorno per chi che non sapessi sono Nivorno che neanche giochiamo e non mi ha fatto un vincolo piattavo gioca la partita allora comunque il mio obiettivo L'obiettivo è quello di puntare, diciamo, come fanno tutti, anche perché comunque c'è un po' da fare, penso, a parte uno che ci spende milagri magini, poi pretendi di fare la squadra super mega forte, ecco. Insomma, l'obiettivo è quello di arrivare alla divisione 1, che io direi, ecco, si inizia molto male, si inizia, ecco l'obiettivo, annessione, proviamoci, che io ci tengo a specificare che comunque non ci sono mai arrivati in vita mia, S'è arrivato nel 2000, però si è 3 o 4, ci sono l'anno scorso di 2 e con voi preverò l'ora di arrivare in vita, ce la faremo, ce la farò, no, si sa, si guarda, insomma, no, io ho povere dell'onnessione, che io comunque c'è un'nessione abbastanza scarsa, ora non è che mi lagga, di solito, boh, di solito quando c'è un casino, mi andava maligno, un fuori no, vabbè, giochiamo, poi dammi un po', speriamo, vada bene, perché se non è senza molto male, sono com'è, qui, ma giocapartita, mi so che curio, si sente in po', l'atel crationsi e ce la biassi la prese invece di casa di senate, di pace a bambuito, intorno a direzione, votare tra peggio e�데 sè, i bei problemi, almeno a me pensamento, e quest'ora il polo davvero di più, pro-l' VIP chiaro nel cuore allo 4 obiettivo che ringrazio? Oh, ma cos'è? Vai, Diego. Andiamo. Andiamo, andiamo. Vai, ciccio, vai che sta. E fai subito la finta. E tira! Ma vaffanculo, che tante, si inizia molto male. No, dai, però dopo due minuti e cinquanta ho fatto già un tiro. Non importa, però ci siamo. Dai, chiediamoci. Attenzione, ma che cazzo è a lui? Va nel mezzo! Di testa! Nulla. Oddio, oddio lui, esci, 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 ma che ti piace! Bravo, bravo, perché? Voi, c'ho l'ansia, ragazzi. Vai, Garrett. Vai, Bale. Attenzione, è partito Bale. Vai, 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 accettati. Guarda nel mezzo a che tà! Ma che culo di... Corovinas. Sezione, i turbi! Vai, vai, ciccio! Donna santa, c'è nevantavaltro per il minone. Buoi, nevantavatta velocità, va a due. Addio! Grande! Adio, addio, attacca a loro. No, levane, levane! È una grande occasione. No, mi sta sulle palle lui, quello della seleccionica. Tito! Addio, è di forte merda, ma ho fatto già perdere le palle. Vai, levane, levane! Dai, dai! Vai, partiamo! Subito, 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 contropiede! Vai, Garrett! Vai, Garrett! Vai, Garrett! Vai, Garrett! Tira, vai! E c'è pale! 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 Esultiamo subito. Questa capriola merdosa, andiamo! Quattro partite, è vero! Sarà qua che lo sia in basta! Lo fa è comodo, no? Di più. Ma eccoci. Attenzione al tiro! Mamma mia, ho fatto una zotta, dì? Ma uffi, la se ti va! Mè! In un'occasione trova! No, io non lo so quanto c'è più di la sua famiglia! Vai, Garrett! Ci trova la macchina di me! Giulia! Allora, giochiamo calmi, vieni! Subito, chetà! Fa una finta! Vai nel mezzo, Corominas! Subito, chetà! E tira, chetà! Va bene! Va bene! Chetà balde! Rifatti ora, rifatti, subito! Rifatti! Non ti vendo più! Non ti vendo più! 13 ai 10, un numero importante! I colpiotti! Se l'ampidone! Va bene! Un tempo, 2 a 0, prima partita, d'accordo! Mi va stra bene! Benissimo! Iniziamo questo secondo tempo! Andiamo, eh! Addio attaccano loro! Addio! Levane! Levane! Vai! Vai che la prendi! Vai! Leva! 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 Ho mai fatto questo cagnaccio, eh! Non lo so! No! Che bollante! Leva! 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 Fai... Ferti boccati al po' presto... Madonna... 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 Te... Lo dè... Ferti boccati al po' presto... Diamo che sa... Vai da un po' di fa' qualcosa... Vai... Ma è... Però è vero un c'è in chiesa... Ma scopriano tutti... Guarda su metto che sa... Ma ciccio... Che sa... Tira due... Dai macca al quarto due... Dai... Andiamo... Su... Spazziamola subito... Vai che sa... E far ripartire la squadra veloce... Taccamela di là... Ma la voglio di là... Me la dai di là... Eh... Vai Gareth... Vai Gareth... Vai Gareth... E' tua... GARREET... Dalla bell... E tira... E tira bell... Dio Cristo... Va bene... Va bene... Dai... Dai... L'importante è chiuderla... O perlomeno almeno rimane lì... Tira... Che ha? Che ha? Che ha Carrasco... E sarebbe... Che ha Carrasco... Come siamo? Che ha... Carrasco... Ma come fai eh... Ma come fai eh... Ma come fai... Andiamogli... Via... E ora... Andiamo a conquistare... Anche la prossima partita... Oh... Andiamo... 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 Anzi... Anzi... Ma se ne avanti i soldi ciò... Voglio un preacovaccio... Perché fra l'altro... Ho messo... Anche le storie... Guardate... E poi ci si vede... Ah... Lì al mercato... Ma io... Guarda che avanzo... Andiamo... No... L'allustazione è partita... Che ti guardate... Ciò... Ho messo... Vole ridere il catalogo... Mille... Per 10 partite... E ora... E ora... Mi fanno accomodi di più... E andiamo... Guardate quante ore... Ah... Ah... Pella... Pella meravestà... Però ti dice... Il motivo per il quale prendi... Quei soldi crediti... Via... Oh... Ci si vede... Al mercato... Perché voglio prendere... Un centrompista di qualità... Matino... Kovacic... Va bene... A dopo... E eccoci qui... Allora... Come volete... Se andiamo al mercato... E provo a prendere... Kovacic... Vediamo un po'... Kovacic... E rendamos' po'... Ditomo si... Vediamo un po'... Tipo... Si centrosi logo... C... nulla io sono più che le asse veloci un'alba fa mia ostia non si c'è a meno che ci sono i d guadaglia se c'è la rega ma non si compiò questo maschile assigna oria chi si sa centrompo tutta la quale cc non importa si nega si nega si nega si nega allora vabbè l'uscita si fa tutto dopo dire io quasi quasi un pereo e sei o sam un terzino andiamo un po' campionato sto pensando che ci può essere tanto poco stardo dopo che poi lo sta un po' quando la mia mannante qui gioco il console stando in un'estero si andiamo via allora dodo quanto ho sta vedete che si fa si ma quanto ho sta ne ho idea allora il campionato se ne ho se ne ho il valido come con difensione noi si devono atti assieme chi è il cristiano per cane io non voglio difesa sinistra e lascia colmo ho sbagliato in mente sta miseria di crisi e ciò allora mille due d abbiamo visto un po' di fuori cioè sono questi cioè questo è il decreto da costino no ma davvero no ucci no vada 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 a questo punto vada c'è qualcuna lezereb vada 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 mattina posto vada 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 si schercia no r amen fino alle bucce per forza via è che io comunque inizialmente dato che è l'unione amperato che conosco, credo, forse un minimo, cioè mi conosco un po' di più, non voglio dire che lo conosco, di più che ho fatto quell'altro, inizio con fare la Serie A, però non voglio arrivare necessariamente a fare la Serie A di giocatori più costosi, no, voglio arrivare, perlomeno, provare a fare la Serie A, però se vuoi che mi trovo bene, e perché no magari scoprire, diciamo, e perché no magari, non so, casualmente scoprire anche dei giocatori baggati che magari per chi vedrà il video, per chi di voi vedrà il video, magari potranno, forse fare comodo, insomma, io se lo tenevo a dire che l'obiettivo mio è l'obiettivo di squadra, e che è vero, che è vero, che è giù, 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 è giù o è giù, 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 é brusque, è giù siungo, è giù, è giù, è giù Vuoi gалась ising usc'è l'șătore chied Sverige ce l'ha i tuoi scelle burascentra Novaciale dessese ok go, per forza dormite eh pensa che sta via addio, addio, ma perché mi abamini bene to giù ancora e passala e tira e c'è la rete rete, 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 rete ma chi sei? chi è Corominas? chi è? chi sei? è Corominas è Corominas, 2 a 1 e si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco, 2 a 1 il punteggio comincia ora la seconda trazzo di gioco guarda Corominas che la vuole e tira Corominas ma come si fa? ma come si fa? ma Keita, ma come si fa? addio, addio, addio si, ha fatta la scivolata e ha tirata la bomba, ha tirato la provo? la provo ma che merda non la proverò mai più no bimbi, ma scopi no davvero ho un annuncio ma cosa l'avete fatta a Keita? non dio voi, dio quelli delle sport di FIFA che cazzo hanno fatto a Keita? io vorrei sapere che piedi l'hanno messo boh vai Keita, vai Keita vai che c'è la brateria tira mi dispiace ha fatto il go va bene ho un 2 a 2 l'importante alla fila è un perdo e l'importante alla fila è un perdo io prendo il dodò ora prendo il dodò si 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 prendo il dodò prendo il dodò ci si vede al mercato e poi si fa per il video ultima partita, la terza vediamo un po' di vincere riaccoci, riaccoci lì al mercato andiamo di prendere il dodò andiamo di prendere, speriamo di prendere il dodò quella costa 2 euro quella costa di meno vediamo un po' prima si era visto che comunque era sui 2 mila no? quindi mettiamo 1 e 9 niente 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 oh dodò ma quattro otto no 2 mila vattro no oh quanto ostri c'è neanche vedere 1 ti prendo oh male male lo riprendo no no sai che mi ero anche scordato io invece solo qui nella sette si level marrow scambio ohioi tutte le voce che cosa di il tutorial la youtube non si può assalevare Taylor guardi ti è verità mi dispiace un po' le volte eh anche beh c'è una partita sola qui la gente sarà stanca ma non me ne frega nulla finch' ho mai una giornata e ma mi sa che dalla prossima si era fatto ambi via fuori asa si può giocare con questa una volta oh vuoi fare vele idee cose delle sediamo insieme le affanelle non segne da Berlino Luide oddio questa è una specie di serie a troiaiosa ma guarda il casino di maglia però Berlino Maglia per te o l'aria vuole che va tutto e perchè deve essere così mongoloide no no Dest no Dest guarda è pure questo rosso giusto eeeh Dio ma allora dai regale la gamba regale dai regale dai regale mi ci riprovo dopo la parte di prima è andata un po' male vai Garrett tira tira bene boom si ma ne ne entra una ne ne entra una due a tempo dai va bene via tutto sommato via riprendiamo secondo tempo vediamo un po' di di concretizzare davvero che po' le vedi mila tiri addio oh 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 corominus oh fenomeno 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 corominus ma quanto va fenomeno corominus ma pianta ehla ehla le risse caffai metto uno addosso dai tu ci riprovo nooo troppo forte nooo troppo forte invece no tutto lì ho dentro cioè ti dire facessi in realtà così per davvero portiere poi altre caone chi è buono se passava di veloce 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 è buona è buona è buona è buona e l'avevo vista che era buona e l'avevo vista che era buona Jack uuuu di Artiveria di si in campo dei loro giocatori oggi tocco di ritorno tac dai vieni tiki taka vai ancora e vai a Jack conclui Jack è a tua vista oh peccato di si però che merda che merda vengelo che sta soprattutto io allora l'ha infamato finora l'ha infamato dai cioè io son contento 2 a 0 di punta tra l'arte ma l'avete visto ha fatto chitarlo io l'ho bimbi l'ho piazzata ma qui c'era un passaggio un novantesimo eh è vero e si vince 2 a 0 ora faranno gol sicuramente classio un solito sera fuori toccate il difensore ora se la cale famiglia vai no non sento che palle via una sedia via se muove offendi offendi grande carattere vogliono lottare fino alla fine ce la stanno mettendo tutte in questo voglia di aprire oddio mamma mia signore è un po' noiosa ma sai ma che rischia eccola mamma mia meno male e andiamo comunque già una tutta a casa ecco 7 punti in tre partite io direi di concludere diciamo il primo video di questo gameplay qua spero vi sia piaciuto e ah ora perché venivi infatti vedere perchè c'è anche my brother con me che guarda le partite veniva sta zitto e lui comunque noi ve li che ogni tanto mi consiglia di acquisti perchè lui se ne intende più di me per ora vabbè detto questo appunto finiamo finisco il video qui eh spero di essere vi non lo so vi è stata una virgoletta d'aiuto magari non so un cosa non acquisti io comunque vi consiglio sia covarcicce dodostri ci avete i soldi e corominas assolutamente che non so fra la domanda vostra perchè è uno dei giocatori che mi sono capitati con pacchetti iniziali della web app beh niente detto questo eccoci vi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti